Ben trovati, buongiorno. Luglio è agli sgoccioli, siamo alla penultima giornata in questo mese tipicamente estivo, un mese che abbiamo vissuto insieme in questo spazio in diretta che come sapete ci e vi accompagna verso la celebrazione eucaristica delle ore 11.30, celebrata nella chiesa di San Pio dove è già pronta per noi Maria Antonia Di Maggio. A te carissima. Eccoci qui Maria Pia, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ho qui tra le mani il messaggio di benvenuto ai turisti sul Gargano scritto da parte del nostro arcivescovo padre Franco Moscone. Ho trovato interessante leggere alcuni stralci che voglio condividere con voi, soprattutto alla luce di quello che stiamo vivendo in questi giorni. L'estate, come sappiamo, è tempo di vacanza, di meritato riposo certamente, però è un tempo che non deve vederci distratti di fronte alle cose che accadono. Soprattutto è un tempo in cui ancora di più siamo chiamati a custodire il creato, ad essere ospiti nei luoghi che visitiamo e saperli appunto trattare con il dovuto rispetto. Allora, visto anche quello che sta accadendo e che è accaduto nei giorni scorsi nel nostro paese, pensiamo ai roghi e gli incendi in Sardegna, pensiamo all'alluvione nel Comasco, a queste popolazioni duramente colpite, alle quali ha fatto sentire la sua vicinanza con un messaggio di solidarietà appunto per le popolazioni, il Cardinal Bassetti, presidente della CEI. Vorrei leggere e condividere con voi quello che c'è scritto in questo messaggio di benvenuto ai turisti che sono qui appunto nel nostro amato Gargano da parte del nostro arcivescovo padre Franco Moscone perché sottolinea molto proprio l'importanza di custodire il creato. Ve ne leggo alcuni passaggi. Qui da noi ci sono luoghi dove sono germogliati carismi che da questo lembo di terra protesa nel mare si sono diffusi nel mondo, come quelli di San Michele e di San Pio da Petrelcina, i cui santuari sono visitati da tanti turisti e fedeli che guardano la nostra chiesa per la santità che qui è sbocciata e che da qui risplende. La pandemia vissuta ci ha insegnato che non siamo creatori ma creature, che non siamo individui isolati e indipendenti ma persone in continua relazione, abitanti tutti di un pianeta di cui non siamo padroni ma ospiti e custodi. Anche se non immediatamente ce la faremo solo se saremo tutti un po' più miti e decisi nella costruzione di un futuro che sia davvero di tutti. Altrimenti il rischio che corriamo sarà ancora più grave perché resteremo senza autentico futuro. Se ognuno fa la sua parte insieme facciamo tutto, così raccomandava il beato Dompino Puglisi ai suoi ragazzi del quartiere Brancaccio di Palermo. Tocca ora a noi fare la nostra parte prendendoci cura di chi è meno fortunato e della casa comune in fiamme, senza aspettare, senza delegare, senza disinteressarci. Nessuno può esimersi dal vivere personalmente con sobrietà senza corse affannose per soddisfare bisogni effimeri, cominciando da levitare ogni spreco di cibo, acqua, illuminazione, riscaldamento, carburante, abiti, cellulari, fino al non sporcare e al non inquinare, ma curando e rispettando come propri i beni comuni, giardini, parchi, sentieri, boschi, litorali, spiagge. Se ci lasciamo coinvolgere dal grido del pianeta Terra, saremo protagonisti di un futuro migliore per tutti. Ricordiamoci che la Terra è nostra madre e di madre ce n'è una sola. La bellezza del Gargano dice a tutti la bellezza della madre Terra, che le vostre vacanze in questo luogo paradisiaco sia un'occasione per imparare a vedere tale bellezza anche quando ritornerete alle vostre città e alla quotidianità del vivere. Mi sembrava carino condividere questo messaggio proprio per l'importanza che esso ne contiene, ovvero questo invito a prendersi cura della nostra madre Terra, del nostro creato, di quello che ci circonda. Quindi mi è piaciuto aprire così questo nostro collegamento che, come sempre ci vede ancora oggi, tornare qui nella chiesa di San Pio per poi partecipare insieme alla celebrazione eucaristica delle 11.30, che sarà oggi presieduta da Fran Nicola Monopoli. Molto bene, Maria Antonia. Io direi che noi abbiamo potuto già ascoltare e cogliere anche un afflato lirico di tutto questo. Però dal punto di vista del commento anche dei pellegrini, se vuoi abbiamo un altro spazio più tardi per proseguire. Io sono rimasta appunto molto colpita, ad esempio, dalla conclusione. Quindi sarai tu poi a aggiungere quello che ti sembra opportuno, perché noi nel frattempo abbiamo un piatto abbastanza ricco per i nostri telespettatori, perché oggi, non so se già qualcuno lo sapeva, è anche la giornata mondiale dell'amicizia e noi faremo anche riferimento a due grandi personaggi che sono stati amici. Lo sono anche se uno adesso è dall'altra parte, dall'altra riva. Due grandi vecchi, potremmo dire così. È proprio il caso di dirlo. Due persone che sono state con una esistenza molto diversa nel XXI secolo e di cui una delle due, una donna, non a caso, è ancora sulla scena di questo mondo. Parlo di Giovanni Paolo II e di Wanda Poltavska. Ma intanto vogliamo andare per ordine e parlarvi anche del santo di oggi. Il santo del giorno è innanzitutto un vescovo, il vescovo di Ravenna, Pietro Crisologo, anche dottore della Chiesa. Un grande personaggio, anche lui, per l'epoca, era nato nel IV secolo, intorno a 380 Imola, morì nella stessa città nel 450, quindi V secolo. È stato battezzato da un vescovo che è diventato santo anche lui, Cornelio, che pensò anche di farlo istruire nelle lettere, il che all'epoca era molto importante nel pieno ancora della grande civiltà di Roma. Morto il vescovo di Ravenna, Sisto III, illuminato da una visione, elesse a reggere la chiesa, appunto, di questa città meravigliosa, che noi conosciamo come tale per tanti monumenti splendidi, nati proprio in quel periodo, costruiti anche qui, grazie ai cambiamenti portati dalla fede cattolica. E proprio lui è stato chiamato, nonostante il popolo avesse fatto, il popolo dei fedeli, una scelta diversa. Faccio un piccolo inciso, non tutti sanno che una volta, appunto, c'era, se vogliamo, un movimento più facile dal basso per coloro che sarebbero diventati poi i pastori della Chiesa, perché le comunità erano diverse. Ma su questo ci vorrebbe uno storico e magari prima o poi approfondiremo. Ritornando al nostro crisologo, avete visto anche nella scheda che la parola è proprio, significa dal greco, parola d'oro, perché aveva un'eloquenza straordinaria, favorita evidentemente anche dalla sua grande cultura. Lasciò moltissimi discorsi e omelie di cui ben 176 sono pervenuti sino a noi. I più celebri, quelli pensate contro il carnevale. Cioè sono stati celebri per un periodo, soprattutto. E all'interno di queste, che erano delle vere e proprie invettive, non si poteva nelle omelie evidentemente parlare soltanto in un modo che oggi definiremmo politicamente corretto. Tant'è vero che il nostro San Pietro crisologo ci ammonisce. Non potrà godere con Cristo in cielo chi vuole godere col diavolo in terra. E magari vi vedo già a fare qualche sorriso su questo. Ma noi invece l'esempio dei Santi lo vogliamo prendere sempre sul serio. Tra l'altro, molto rilevante anche il suo ruolo contro le eresie. In particolare, il dogma cattolico doveva in quel periodo essere difeso contro Eutiche. Quindi siamo appunto in epoche in cui, da qualunque punto di vista si analizzi la storia della Chiesa Cattolica, escono tantissimi elementi, appunto dall'arte meravigliosa, al cambiamento, alle famose radici che qualcuno voleva trattenere a ogni costo, quelle dell'impero romano, a chi invece avrebbe preferito andare completamente in un'altra direzione. Insomma, il nostro tempo, che ci sembra così complicato, non è poi così diverso da quello che è stato vissuto anche in passato dalle comunità cattoliche. Ci sono tante altre cose. Ovviamente, vi ripeto, quello che ho detto in altre occasioni, c'è anche sul sito delle notizie del Vaticano, Vatican News, ad esempio, la pagina dedicata al Santo del Giorno. Noi poi faremo una piccola appendice. Però adesso voglio andare, prima di riparlare di amicizia, a farvi vedere proprio un gruppo di preghiera, in uno scatto che arriva dall'archivio Voce di Padre Pio, uno scatto che ci mostra la fede, l'amicizia, cioè le comprendiamo proprio dai volti, da quello stare buon per loro all'epoca, tutti senza distanziamento, senza mascherina, era il 1979, e il gruppo arrivava da Tolentino, quindi la provincia di Macerata, quindi le Marche, e anche, certamente, la fede è una grande forza, proprio quando si parla di amicizia. Oggi voglio darvi come consiglio, molto rapidamente, proprio di leggervi, se volete lo trovate integralmente, anche su internet, un libro di Cicerone, quindi andiamo all'età classica di Roma, perché ha scritto il De Amicizia, in una giornata così ci sta bene, e mostra alcuni elementi chiave che sono oggi identici, quando si costruisce e si vive, soprattutto una lunga amicizia. Lunga, lunghissima, è stata quella tra Carol Wojtyla, poi Giovanni Paolo II, e la dottoressa Wanda Poltavska. Certo, lei e anche suo marito Andrei, poi conosciamo tutti la vita di Giovanni Paolo II, nel segno della totale apertura a tutti gli uomini. La sua capacità, appunto, anche come teologo e antropologo, di mirare alla valorizzazione di ogni persona che incontrava, è diventata anch'essa una strada della fede per tanti. Ma noi ci concentriamo, come vi ho detto prima, sulla presentazione di questo libro, Diario di un'amicizia. in cui troviamo le lettere che si sono scambiati Giovanni Paolo II e Wanda Poltavska, che naturalmente salutiamo e per la quale vogliamo pregare il Signore che la conservi ancora fino a che i suoi piani lo vogliono. Perché è una donna eccezionale che ci ha rilasciato tante testimonianze, ma in particolare quel giorno, qui a San Giovanni Rotondo, ha voluto mirare al punto chiave della loro amicizia, dal punto di vista del perché Giovanni Paolo II le ha chiesto di impegnarsi per difendere la vita. Sentiamo. Questo lavoro in difesa della vita dei bambini neonati è stato il primo nostro campo che facciamo insieme. Adesso quasi 60 anni. Come salvare il bambino? Lui si occupava di etica dei medici, sempre facendo incontri con i medici. Per questo ho fatto anche nel primo momento potevo partecipare ai suoi incontri ogni settimana con i medici, con la Santa Messa, adorazione e anche qualche intervento sui problemi etici della medicina. Adesso questi problemi sono cresciuti perché adesso sono grande lotta per la vita del bambino più difficile come 40 anni fa, come le vite attuali fino ad oggi. Allora questo secondo libro, Atto e persona, mostra che persona umana in fi e ri est, scrive in latino, persona umana sempre si sviluppa, da te dipende, dal tuo atto, dalla tua attività. Se parli una bugia, una seconda bugia, sei bugiardo. Allora, come stare? Bisogna formare coscienza umana. Per svilupparsi in direzione vera verso la santità, i giovani non possono trovare strada da solo, devono ricevere esempio ed educati perché di se stesso persona umana ha una tendenza a chiamare bene questo che piace. Invece, tante volte, bene è molto difficile e male può essere molto piacevole. Allora, Santo Padre diceva che bisogna formare coscienza. Avete sentito splendida novantenne allora nel 2010 quando pronunciava queste parole. Si chiama Vanda, la dottoressa Poltarska, ma Giovanni Paolo II la chiamava con il diminutivo affettoso di Duscia come troviamo nelle sue lettere. E a proposito di lettere guardate è stato proprio uno dei frati minori cappuccini che meglio conoscete fra Francesco di Leo che ha letto ve ne propongo uno stralcio la prima lettera che Carol Vojtyla le ha scritto quando era appena diventato pontefice. Le ha scritto 48 ore dopo quell'elezione del 16 ottobre 1978. Sentite. Cara Duscia è bello che io abbia potuto sentire al telefono il 17 ottobre sia la tua voce che quella di Andre e di Marian. Mi fa piacere che veniate qui. Spero che potrò incontrare voi te non in modo collettivo ma in modo familiare almeno per poco tempo. Il Signore Gesù ha voluto che quello che a volte veniva detto quello che tu stessa avevi detto il giorno dopo la morte di Paolo VI diventasse realtà. Ringrazio Dio per avermi dato questa volta così tanta pace interiore quella pace che mi mancava in modo evidente ancora in agosto che ho potuto vivere tutto ciò senza tensione con la fiducia che lui e sua madre dirigeranno tutto anche in queste relazioni preoccupazioni e responsabilità più personali con la convinzione che se non seguirò la chiamata anche in questi rapporti posso rovinare tutto. capisci che in tutto questo penso a te da oltre vent'anni da quando Andre mi disse per la prima volta Duska è stata a Ravensbrück è nata nella mia consapevolezza la convinzione che Dio mi dava e mi assegnava a te affinché in un certo senso io compensassi quello che avevi sofferto lì e ho pensato lei ha sofferto al mio posto a me Dio ha risparmiato quella prova perché lei è stata lì si può dire che questa convinzione fosse irrazionale tuttavia essa è sempre stata in me e continua a rimanerci su questa convinzione si è sviluppata gradualmente tutta la consapevolezza della sorella e anche questa appartiene alla dimensione di tutta la vita anch'essa continua a rimanere mia cara Duska tutta quella dimensione rimane in me e deve rimanere in te è sempre stata radicata e fissata in Dio nella sua grazia ora deve esserci fissata ancora di più per questo sono state così appropriate le parole che ho sentito per telefono il 17 corrente mese noi ci saremo bisognerà realizzarle in modo nuovo come farlo nei dettagli ancora non lo so ma confido che il Signore Gesù ci insegnerà ho fiducia la grazia di Dio è più potente della nostra debolezza tutto posso in colui che mi dà forza 11 e 06 minuti e circa 20 secondi era proprio un 30 luglio nel 1978 quando morì un grande personaggio della inventiva italiana applicata alla tecnologia e anche al coraggio Umberto Nobile progettista ed esploratore universalmente noto per due trasvolate al polo nord quella voluta dalla Norvegia nel 1926 e quella interamente italiana del 1928 purtroppo dopo la seconda spedizione ci fu una tempesta in senso lato che Nobile dovette affrontare più pericolosa e che lo ha amareggiato anche di più e allora praticamente uno dei paradossi tipici italiani si dedicò a applicare le sue capacità le sue conoscenze anche la forza appunto del suo coraggio a istituzioni differenti dallo Stato italiano però c'è da dire che il governo fascista gli aveva dato anche il permesso di farlo pensate anche di trasferirsi in Russia per queste ulteriori ricerche nella dirigibilistica sovietica e poi se ne andò anche negli Stati Uniti e già sono un parabole che se conosciamo un po' la nostra storia ritroviamo spessissimo ma come vi avevo accennato prima oggi facciamo anche un PS a proposito del Santo del Giorno perché il 30 luglio del 1942 moriva San Leopoldo Mandic questo detto il confessore per Antonomasia questo personaggio di cui già vi avevo parlato e che come sapete è stato anche portato più in primo piano lui così schivo da sempre proprio quando Giovanni Papa Francesco volle il Giubileo della Misericordia e come testimonial chiamò a Roma Padre Pio e lui San Leopoldo ecco a proposito di questa sua capacità di restare ma anche tornare nel cuore delle persone noi più volte siamo rimasti colpiti dalla differenza tra quell'aspetto che aveva San Leopoldo e invece l'effetto che faceva in coloro che confessava in particolare c'era la fila per andarsi a confessare da lui da parte dei sacerdoti è stato un uomo di cui vi abbiamo riparlato in occasione delle nostre puntate primaverili di Addio Piacendo ci siamo collegati proprio con il santuario di Padova che custodisce le sue spoglie e vogliamo quindi in questo giorno in cui si ricorda nel calendario liturgico anche la sua santità costruita anche attraverso il confessionale ritornare proprio in santuario per uno stralcio di quell'intervista io sono arrivato a Padova dal settembre scorso quindi come servizio al santuario di San Leopoldo precedentemente sono stato in luoghi di formazione venivo direttamente da sei anni vissuti a Tortona in provincia di Alessandria dove abbiamo il noviziato interprovinciale per il Nord Italia precedentemente all'Overe un anno a Milano insomma anni vissuto anni di grazia vissuti nei luoghi di formazione e adesso sì adesso giunto a Padova sono stato richiesto di aiutare nell'animazione del santuario quindi vicino a un'altra grazia vicino a San Leopoldo credo che il servizio che stiamo che stiamo facendo anche di vicinanza in questo tempo difficile con la nostra presenza in confessionale con la nostra presenza nell'ascolto con la nostra presenza vicina perché la gente ha bisogno di parlare di riversare il proprio cuore a noi che in qualche modo diciamo ancora adesso la presenza di Padre Leopoldo questo continua ecco tutto sommato questo continua e voglio ricordare per chi magari l'avesse dimenticato che San Leopoldo era una generazione precedente a San Pio sicuramente se ne potrebbe parlare a lungo delle loro modalità di confessori era detto in modo molto insistito di manica larga San Leopoldo non ha lasciato opere teologiche o letterarie non ha affascinato con la sua cultura non ha fondato opere sociali per tutti quelli che lo connovero e lì altro non fu che un povero frate piccolo malaticcio la sua grandezza è altrove nell'immolarsi nel donarsi giorno dopo giorno per tutto il tempo della sua vita sacerdotale cioè per cinquantadue anni nel silenzio nella riservatezza nell'umiltà di una celetta confessionale il buon pastore offre la vita per le pecore fra Leopoldo era sempre lì pronto e sorridente prudente e modesto confidente discreto e padre fedele dell'anime maestro rispettoso e consigliere spirituale comprensivo e paziente se si volesse definirlo con una parola sola come durante la sua vita facevano i suoi penitenti e confratelli allora Eli è il confessor Eli sapeva solo confessare eppure proprio in questo sta la sua grandezza in questo suo scomparire per far posto al vero pastore delle anime Egli manifestava così il suo impegno nascondiamo tutto anche quello che può avere apparenza di dono di Dio affinché non se ne faccia mercato a Dio solo l'onore e la gloria se fosse possibile noi dovremmo passare sulla terra come un'ombra che non nasce a traccia di sé e a chi gli chiedeva come facesse a vivere così e gli rispondeva è la mia vita il buon pastore offre la vita per le sue pecore splendida chiara la voce di Giovanni Paolo II oggi è la seconda volta che abbiamo occasione di citarlo questo grande pastore che ha traghettato la chiesa intera dal ventesimo al ventonesimo secolo quest'uomo che ha riscoperto in mille situazioni anche la forza dell'Europa cristiana e naturalmente in particolare questa eredità la raccolta Benedetto XVI ma avremo modo di riparlare di queste tematiche così splendide intanto abbiamo il tempo di ripercorrere ancora attraverso questa volta una suora una religiosa che si è donata tutta al Signore un percorso insieme a Padre Pio a quando ed è una di quelle persone che lo hanno conosciuto appunto dal vivo lo hanno potuto avvicinare più di una volta ecco quando si racconta di Padre Pio tutti si emozionano ma in particolare per la sottoscritta sentire il racconto di sua cherubina fascia e del suo incontro con Padre Pio è stata davvero una grande emozione è un privilegio so cherubina un saluto affettuoso adesso i nostri telespettatori possono riascoltare parte della tua testimonianza e ha conosciuto Padre Pio sì non solo l'ho conosciuto io ho vissuto con Padre Pio da piccola per causa di mio zio tenevo mio zio fra Costantino che per Padre Pio ecco era e da piccolo quando lui veniva a casa non faceva altro che parlare di Padre Pio e raccontare tutti gli episodi di Padre Pio per cui Padre Pio per me era figura indispensabile lui era un figlio affezionato e obbediente a Padre Pio e di notte e di giorno non lo lasciava mai anche perché zio dormiva nel letto numero 3 e Padre Pio la numero 5 Padre Pio andava anche di notte sul coro dove passare per forza avanti la stanzetta di mio zio e mio zio lo aspettava e poi gli andava anche dietro quindi quando succedeva uno degli episodi che sappiamo che Padre Pio parlava anche con le anni del purgatorio anche di notte e giorno mio zio ci raccontava queste cose io non vedevo l'ora di venire qui a San Giovanni per vedere anche questi post che zio mi raccontava di questi episodi di Padre Pio però personalmente ho conosciuto Padre Pio prima di entrare in convento perché a quei tempi non si viaggiava e non era andata mai a nessuna parte mia mamma e mio padre dissero beh visto che oramai sarebbero decise anche mia mamma e mio padre dicero loro dicero noi non siamo degni di dare una figlia al Signore perché vengo da una famiglia molto religiosa e praticata però avrebbero voluto che io mi facessero più grande invece ecco ho bruciato le tappe quindi si sono dovuto decidere per forza se almeno vai a salutare il tuo zio che era questo fra Costantino io dovevo andare a confessare perché allora Padre Pio si avvicinava così quindi tutti quanti potevamo confessarci ho finito dopo non ci dava la pensione andavamo io aspettavo per andare a confessare da Padre Pio se non che ecco visto che si è alzato una signora prima di me allora mi sono rincionettiata di nuovo perché tanto ci dobbiamo confessare tutti quando mentre guardavo la mamma mi è venuta in testa ma io anziché confessarmi prima con Padre Pio ci domanda se veramente è vocazione è vera la mia e se Gesù vuole veramente che io mi faccia suore che entri in convento perché tutto quando era piccola era piccola mi era infissuta delle suore mentre ho visto che la signora si è alzata da vicino al confessionale lì è proprio il posto questo incontro fu enormale tutt'ora tutt'ora per me è stato un momento più importante della mia vita come mi sono alzata per andare esce un fraticello dalla porticina lì nella chiesetta antica dice fermi tutti perché il padre deve andare a votare a San Giovanni io mentre guardavo mi sono girata perché i banchi non stavano così come stanno ora mi sono guardata Padre Pio lui stavo confessando con la mano così perché lui non poteva respirare quindi non teneva il panno avanti con questa mano si manteneva come ho detto Padre Pio lui ha fatto giusto lo sportello mi ha guardato con quegli occhi profondi quasi a questa destra un pochino come lui io mi sono sentito come se lui mi avesse letto dentro proprio con un cuore aperto come se lui mi leggeva si si io le dice ma come faccio voleva solo sapere se era vocazione e se era giusto che entrava in commento lui ha detto si solo questo si io non riuscirò mai a dire cosa è successo dentro di me mi sono sentito una vampata di calore di entusiasmo di gioia che io per il carattere come ero io se non fosse stato avanti a Padre Pia avanti in chiesa ma sa quanti urli salta avrei dato ma non c'è stato il tempo che sono stato attimi bastano pochi attimi in certi casi anche a cambiare la vita e suor Cherubina la riascolteremo in qualche altro stralcio di una lunga testimonianza che ho avuto modo di raccogliere ma anche con una conversazione meravigliosa intanto siamo arrivati al momento quasi di dare la linea alla regia però voglio ricordarvi che aspettiamo sempre se volete inviarcele le vostre fotografie info chioccio la teleradiopadrepio.it ovviamente si parla dei pellegrinaggi magari del passato nei luoghi di Padre Pio e potete anche se volete alcune delucidazioni riguardo agli argomenti di cui abbiamo parlato o in particolare anche magari farvi ripetere qualche numero di telefono utile 0882 41 83 80 è il numero a cui risponde ogni mattina la nostra grazia Pia che voglio immediatamente salutare e ringraziare forse stamattina non ci siamo neanche incrociate quando il lavoro è intenso è proprio così come vi dicevo adesso però linea alla regia grazie a tutti Grazie per la visione!